E' a 150 metri dall'arrivo, Melangeni ancora in testa, gli sta incollato Alfonso, Zolani lo incalza, ecco l'indirittura, Melangeni non molla, ma che succede? Quello è Franco, il nostro cameraman, e vai Franco vai, ha corso tutta la gara con la telecamera in spalla, è incredibile, Melangeni avrà loro, ma è il cameraman che passerà la storia! Non credere ai tuoi occhi.